Pizzaioli, manutentori edili, ma anche cuochi, sarti e panettieri. I detenuti in Abruzzo, grazie alla Regione, potranno essere selezionati e formati al fine di ottenere una qualifica che sarà utile nel futuro reinserimento sociale e lavorativo. Un progetto molto importante che abbiamo voluto supportare finanziariamente, con una dote finanziaria di circa un milione e mezzo di euro. Tra l'altro il progetto è stato anche innovato, c'è una piattaforma informatica, c'è un comitato tecnico-scientifico che farà praticamente da filtro, ovvero un matching tra domande e offerte del lavoro. Vogliamo capire quali sono le esigenze lavorative e cercare appunto di profilare questi detenuti negli otto istituti penitenziari abruzzesi per cercare di formare l'interno del mondo del lavoro. Il progetto finanziato con il Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2014-2020 è stato inserito nel nuovo ciclo 2021-2027 con una dotazione finanziaria di ben 7 milioni di euro. La Regione Abruzzo ha fortemente creduto nel dettato costituzionale della funzione rieducativa della pena. Il detenuto è considerato assolutamente idoneo ad essere reinserito attraverso progetti formativi quali la cultura del cibo, la cultura della terra, la cultura della manutenzione ed è una misura integrata alla programmazione operativa nazionale rispetto alla quale ci sarà un importantissimo evento a settembre con la presentazione dei risultati ottenuti attraverso questo reinserimento di prodotti finiti realizzati dai detenuti. Le criticità degli istituti penitenziari come il sovraffollamento e la mancanza di personale mettono in secondo piano il ruolo rieducativo previsto dalla pena detentiva che resta la condizione necessaria al nuovo ingresso sociale. Faremo l'analisi di contesto attraverso la collaborazione che c'è sempre stata con i direttori degli istituti penitenziari per verificare i numeri che naturalmente saranno incrementati rispetto alla dotazione finanziaria nuova che corrisponde appunto, come dicevo prima, a 7 milioni di euro.